Questo qua in ottica Milan non è un punto preso, sono due punti persi, due punti pesanti, persi in ottica Scudetto, uno Scudetto che scappa, un Napoli che fugge a più 9 e adesso sì mi direte guardate anche il bicchiere che è mezzo pieno, ma de che? Ma de che? Perché io non dico che giocare a Lecce sia facile, è tutt'altro, sono uno dei pochi che non ha mai sottovalutato la trasferta a Lecce perché ho visto l'Inter, perché ho visto la Juve che hanno vinto soffrendo, perché ho visto la Fiorentina che si è impantanata, perché ho visto la Lazio che è crollata, perché ho visto che partita ha fatto il Lecce anche contro il Napoli al Maradona, quindi mai potrei prendere sotto gamba il Lecce, ma capite bene che se il Milan stava a meno 10 e deve recuperare 10 punti, e beh, qualcosina di tosta dovrebbe anche farla, nel senso, è vero giocare a Lecce è tosto, ma dovresti anche superare qualcuna di queste prove più complicate, altrimenti comunque lo Scudetto lo abbandoni, perché se il gap è così ampio, se tu stavi a meno 3, meno 4 dal Napoli, ti dicevo, vabbè, comunque un pari a Lecce ce può pure sta, ma se tu stai a meno 10, questi pareggi qua, questi punti persi diventano inammissibili, se poi ambisci allo Scudetto, se invece ambisci alla Champions, sta contenti tranquillamente della Champions, vabbè, chiudi Baracca e Burattini e il Napoli sto Scudetto lo vince già a febbraio, perché parlamose chiaro, le contendenti oltre al Napoli, che era sempre da mesi ormai la grande favorita, erano la Juventus che è crollata senza pietà ieri al San Paolo, al Maradona anzi, Il Milan, che però sta in un momentaccio veramente mostruoso, che ha pareggiato con la Roma, che è uscito male dalla Coppa Italia, e che oggi, mo' ne parliamo, ma ha fatto un primo tempo veramente indecente, e non... ok, ok, la reazione è stata buona, ma è un Milan che comunque non dà buoni segnali, vi ripeto, se si parla dello Scudetto. Poi l'Inter, ancora peggio, l'Inter è una squadra molto discontinua, quindi sinceramente non la metterei, anche se ad oggi forse è quella messa un po' meno peggio, è quella che attualmente come morale è messa un po' meno peggio rispetto a Juventus e Milan, però l'Inter comunque, salvo miracoli, è difficile che possa rientrare effettivamente in lotta Scudetto, nel senso che possa recuperare 10 punti al Napoli, è quello che intendo. Comunque oggi il Milan fa una partitaccia, oggi il Milan fa una partitaccia, parte veramente male, parte male a livello fisico, ma soprattutto a livello mentale. Il Milan non scende in campo, è un Milan assente, è un Milan veramente proprio inesistente nel primo tempo, è un Milan che sbaglia cose elementari, avete visto che passaggio fa Calulu per il terzino, per Calabria al quinto minuto, al terzo minuto anzi, ma che passaggio è? Un passaggio a tre metri sbagliato così, con il campo che si ha piovuto, ma non c'è stavano le pozzanghere che stoppano la palla a metà fra un giocatore e un altro. Quindi veramente un Milan che mi è sembrato nel primo tempo debolissimo mentalmente, quasi come se la Coppa Italia e la Roma anche, secondo me la Roma è stato un contraccolpo pesante a livello psicologico, la Coppa Italia, questo contraccolpo sicuramente non l'ha scaricato, ecco questo accumulo diciamo di energia negativa l'abbia quasi traumatizzato, il Milan è sceso in campo traumatizzato, poi il Lecce ha fatto una partita nel primo tempo strepitosa a livello fisico, ha giganteggiato, ha lottato su ogni pallone, correvano il doppio, di Francesco non so quanti chilometri ha fatto, ma comunque strefezza, è un Lecce onnipresente in campo contro un Milan assente, quindi il rimpianto del Lecce è l'essere andati in vantaggio soltanto 2-0, che è tanto, ci mancherebbe quanto volevi vince, però per quanto creavano, per quanto stavano annientando il Milan, quel 2-0 era quasi quasi poco, per farvi capire come la penso in questo caso, quindi 1-0 comunque di Teo Hernandez, che se fa gol nella porta sbagliata, 2-0 di Baschirotto, adesso ripartiranno i meme, i muscoli, Baschirotto gasa sicuramente tanto perché ha un fisico quasi da bodybuilder, però gioca a calcio e fa un gol, anche lì comunque Teo Hernandez, la linea, le marcature fanno abbastanza pena, quindi è un Milan che nel primo tempo, io del Milan nel primo tempo non salvo niente, 0-0, veramente 0-0-0, neanche Leao, che poi è colui che suona la carica e che fa risvegliare il Milan, non lo salvo nel primo tempo, perché anche lui come tutti è assente, quasi svogliato, non corre, poi però negli sbogliatoi qualcosa cambia, Pioli evidentemente comunque fa scattare quel qualcosa e il Milan cambia faccia, nel secondo tempo è un altro Milan, è un altro Lecce che non poteva reggere 90 minuti a quei ritmi serrati del primo tempo, è un Lecce che comunque concede tanto campo al Milan perché nel primo tempo concede la palla al Milan, nei fatti è il Milan che comunque ha il possesso penso più o meno 65-35, però è un Milan che nonostante abbia il possesso è un possesso sterile, è un Milan che quasi mai arriva comunque in attacco, nel secondo invece il Milan ha sia il possesso che il campo, il Lecce comunque si abbassa, il Milan ne può approfittare, lo fa la genialata perché di questo si tratta, aiutata anche da un Falcone sicuramente non impeccabile, Di Leao cambia la partita e poi arriva anche il gol di Calabria di testa che fa 2-2, nel finale comunque qualche occasione da una parte e dall'altra, tra il palo di Messias, anche se poi Messias era in fuorigioco, le parate di Tataruciano, il tiro del Lecce fuori di poco, quindi comunque una partita molto movimentata, il Lecce fa sicuramente comunque un'ottima partita e si prende un punto meritatissimo, indubbiamente è molto importante ma è un Lecce che ormai in ottica salvezza, non voglio dire che sia virtualmente salvo, ma è una squadra che dubito fortissimamente possa retrocedere, occhio però perché anche il Venezia pareva che l'anno scorso, a fine andata, fosse proprio una squadra, non dico da metà classifica, ma quasi, bloccava le B che le metteva in difficoltà e poi invece è crollato, quindi occhio a non ripetere comunque l'errore del Venezia, però il Lecce mi ha dato comunque un'ottima impressione in questa prima parte di stagione, e poi invece il Milan perde due punti fondamentali nella corsa a scudetto, il Napoli scappa sempre più primo, a più 9 sulla seconda, a più 10 sulla terza, c'è un gap clamoroso e poi più che i punti è proprio quanto le squadre siano forti, perché se uno mi dice il Napoli è in calo e il Milan è in ascesa, diciamo il Milan è in fiducia, il Milan sta andando forte, allora vi dico, vabbè, in 20 partite si può risolvere tutto, tra virgolette il Milan può recuperare i punti al Napoli, e non è così, è esattamente il contrario, è l'esatto opposto, il Milan, così come la Juventus, stanno calando, stanno comunque in sfiducia, il Napoli invece viaggia proprio sulle ali dell'entusiasmo e quindi non vedo veramente come il Napoli possa perdere questo scudetto, dovrebbe proprio staccare la sprina, dovrebbe crolla, collassare al 100%, però capite bene che queste cose nel calcio si verificano una volta su mille, se non di più, diciamo che comunque il Napoli ormai questo scudetto ce l'ha in tasca e l'ha già, si può dire, ipotecato, salvo, miracoli, da parte di una delle squadre che attualmente stanno dietro, che dovrebbero fare un ritorno della Madonna, contemporaneamente a un girone del Napoli imbarazzante, questo scudetto è di Spalletti, ora però tocca a voi, mi raccomando, scrivete qui sotto anche il vostro parere, lasciate un sacco di like e commentate scrivendo la vostra opinione, ciao ciao!